Anteprima della trasmissione Polifemo, l'occhio di Abate di venerdì 4 marzo, ore 21, Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre ed in la replica mercoledì 9 marzo alle ore 23 e 30, una puntata per i due terzi dedicata a Casa Artigiani. Beh, vogliamo appunto, dopo un primo incontro con Casa Artigiani nel quale abbiamo denunciato appunto le difficoltà del territorio, il rapporto con le istituzioni, beh oggi vogliamo vedere come funziona Casa Artigiani, quindi una puntata propositiva, come funziona l'apporto e il supporto che Casa Artigiani dà appunto ai propri iscritti ma a chi in generale si avvicina o fa parte appunto della realtà artigianale e quindi anche l'importanza di sottolineare come l'artigianato rappresenta davvero l'alternativa alla grande industria. Lo faremo con Mimma Annichiarico, presidente provinciale di Casa Artigiani Taranto, con Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Casa Artigiani, con Rosita Giaracuni, responsabile dell'ufficio formazione e start-up e con Federico Greco, presidente di Assomarno. Quindi una puntata in cui vogliamo riscoprire la nostra origine e dico anche il nostro futuro legato all'artigianato. Poi una seconda parte che sicuramente vi piacerà tanto, come d'altronde la prima, parlo di una serie di pillole, di puntate dello sportello del cittadino, tutte le segnalazioni che voi cittadini sottoponete quotidianamente alla nostra attenzione e cerchiamo appunto di tradurre in immagini queste segnalazioni. Quindi una raffica di queste pillole e poi ovviamente come di consueto la parte finale di Polifilmo dedicata agli specchi riflessi, al nostro angolo musicale. E allora che dire, mettetevi comodi davanti al televisore, in poltrona, canale 78 del digitale terrestre, Delta TV, venerdì 4 marzo, ore 21, Polifilmo, l'informazione libera della città, la TV senza padroni. Buona visione.